L'importante finanziamento per la scuola Fiorentino di Battipaglia con un posto pubblico l'assessore all'area sociale Michele Gioia si è congratulato. Complimenti al dirigente scolastico il dottor Dario Palo dell'Istituto Comprensivo Fiorentino. Grazie al lavoro del preside e dei suoi collaboratori beneficerà di un finanziamento di circa 25.000 euro per un corso di formazione sull'orientamento scolastico e professionale. A questo va aggiunto il finanziamento di circa 70.000 euro avuto dal MIUR pochi giorni fa, prosegue Gioia, per il degoro architettonico da destinare alla scuola primaria dell'infanzia. Complimenti al preside della Fiorentino e tutti i dirigenti e insegnanti della scuola dell'obbligo e non di Battipaglia.